Una memoria, un documento aggiuntivo, numeri in più da esaminare per i giudici che dovranno esprimersi sull'eventuale stato di insolvenza della vecchia Banca Etruria il prossimo 8 di febbraio. Lo depositerà l'Associazione Amici di Banca Etruria più volte in prima linea, prima e dopo il crack, per denunciare le storture di questa complicata vicenda. Lunedì scorso io personalmente ho presentato una richiesta alla cancelleria fallimentare del Tribunale d'Arezzo per chiedere se possiamo anche noi presentare questa memoria e per spiegare perché questa banca è stata fatta fallire a tavolino. E' stata fatta fallire a tavolino perché ancora dalla relazione al 30 settembre dei commissari emerge un patrimonio positivo di 22,5 milioni e quindi se c'è un patrimonio positivo, se non ci sono altri creditori nei confronti della banca che hanno richiesto l'insolvenza della banca, questa è stata decisa in base al decreto di risoluzione, quindi dal Fondo Nazionale di Risoluzione che sta presso la Banca d'Italia. Noi questa cosa non l'abbiamo mai accettata, speriamo che venga dichiarata illegittima e incostituzionale sia dai tribunali che dalla Corte Costituzionale perché così si vedrà, ma intanto tutto è ormai accaduto, sarà difficile tornare indietro. Ma dovevano avere il coraggio gli organi di vigilanza di chiedere sia ai soci che cosa, questo patrimonio di 22,5 milioni si poteva dire ai soci, guardate facciamo un aumento di capitale di 200 milioni, noi però vediamo un diritto di warrant sulla base di quello che avete di 0,10 centesimi perché 22 milioni su 217 milioni di azioni vengono all'incirca 10 centesimi, no? Gli diamo questo warrant per un aumento di capitale di 200 milioni, in più obbligazionisti, le vostre obbligazioni che in Banca d'Italia hanno 250 milioni suddivisi, 130 per i privati e 120 per gli investitori istituzionali, si può dire che queste 200 saranno convertite in azioni di Banca Etruria per l'intero importo, si avevano a questo punto 450 milioni di capitale come capitale che c'è ora di 442 milioni e Banca Etruria sarebbe andata avanti senza essere dichiarata fallita, certo andava avanti con i commissari, non abbiamo avuto mai nulla in contrario che i commissari portassero avanti e lo stesso commissario Pironti che guarda caso ora è nel comitato di sorviglianza della Banca che è invece in liquidazione, aveva detto i primi di novembre è la tranquilla, la banca, può darsi che avrebbe chiuso anche in positivo e ci siamo visti invece compresi in un fallimento che noi non condividiamo assolutamente.